ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come ha avuto luogo un'altra lite durante la puntata di uomini e donne over tra due tronisti e maria de filitti ha dovuto prendere dei provvedimenti ogni volta accade qualcosa a uomini e donne che sia il programma classico l'edizione over c'è aria di burrasca che a volte viene soffocata e altre volte sfocia in liti e discussioni furibonde nelle scorse puntate ci sono stati diversi momenti ad alta tensione come il confronto tra tina e il cavaliere elio tra aurora tropea e armando incarnato e tra quest'ultimo e riccardo guarnieri storico rivale ed ex di ida platano maria de filippi a volte deve fare da pacere o da professoressa che riporta l'ordine in studio e punisce i colpevoli con alcuni provvedimenti stanca del clima che si crea a volte nel suo programma ha deciso di fare così per evitare altre scenate di questo tipo in futuro la rissa sfrenata tra due tronisti riccardo guarnieri e armando incarnato sono arrivati sul punto di alzare le mani aurora tropea e armando per hanno litigato per una ex corteggiatrice lucrezia che ai tempi armando aveva soffiato al tronista gianluca de matteis aurora sosteneva che i due si fossero frequentati fuori dal programma e ha chiesto di poter sentire al telefono lucrezia i toni si sono alzati e a un certo punto senza motivazioni chiare si è intromesso riccardo guarnieri riccardo avrebbe lanciato ad armando delle frecciatine scatenando un botta e risposta molto acceso fino a che i due sono arrivati alle mani dato che la puntata è registrata non è ancora andata in onda e forse questo momento verrà tagliato ma la reazione di maria de filippi è stata dura e ha obbligato riccardo e armando a chiedere scusa a tutti nonché a stringersi la mano come gesto di pace i provvedimenti di maria nel backstage di uomini e donne over si vocifera che gli atteggiamenti aggressivi frequenti di alcuni tronisti over stanno costringendo maria a ripulire il programma e riportarlo alle origini quando al centro della trasmissione c'era il semplice romantico corteggiamento e non risse da pub inaccettabili per un pubblico televisivo saranno fatti fuori alcun protagonisti del programma anche per le policy più stringenti che pier silvio berlusconi sta dettando sui suoi programmi mediaset da diversi mesi in deriva trash finalmente una mossa di cui beneficeranno tutti i telespettatori grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video iscriviti al canale